Accade spesso che una LUT ci fornisca il risultato desiderato come manipolazione del colore ma non come gestione del canale luma, così come può accadere che l'intervento della LUT sia desiderabile dal punto di vista del contrasto e della luminosità ma non per quanto riguarda la cromia. In questi casi, se comunque proprio ci teniamo a utilizzare quella LUT, è necessario separare queste due categorie di interventi, luma e croma, in modo da poterle dosare individualmente. Vediamo come. Su questa clip ho applicato una LUT che trasforma il log in un REC709 modificando i colori in stile nomografico. Poniamo il caso che ci piaccia questa nuova interpretazione cromatica ma non la curva di contrasto associata. Ciò che possiamo fare è creare un layer node, alt L, copiare la LUT applicata sul nodo 1, ctrl C e incollarla sul nodo 2, ctrl V. A questo punto sono tornato alla situazione iniziale perché ho semplicemente duplicato e sovrapposto a se stessa l'immagine modificata dalla LUT. Se però clicco col tasto destro sul layer mixer, posso accedere a diversi metodi di fusione e cambiare il modo in cui questi due nodi interagiscono tra di loro. Posso quindi far sì che queste due immagini, anziché sovrapporsi l'una all'altra, si fondano insieme secondo un particolare criterio. Scegliendo il metodo color, faccio sì che il nodo 1 agisca unicamente sul canale luma dell'immagine e che il nodo 2 limite il proprio intervento al canale croma. Di conseguenza, alterando l'opacità del nodo 1, posso ridurre fino ad annullare la curva di contrasto applicata dalla LUT mantenendo per intero la modifica cromatica, che si trova nel nodo 2. Come si può vedere il contrasto ora è molto più contenuto mentre l'intervento sui colori ha la stessa intensità di prima. Se invece voglio conservare la curva di contrasto e ridurre la modifica cromatica, posso scegliere il metodo di fusione luminosity. In questo modo il nodo 1 agisce unicamente sul canale croma mentre il nodo 2 viene limitato a quello luma. Di conseguenza, agendo sull'opacità del nodo 1, posso ridurre fino ad annullare la trasformazione cromatica portata dalla LUT e conservare per intero la curva di contrasto prodotta dall'effetto. Semplice, rapido, indolore.